Come vedete alle mie spalle in questo momento viene allestito l'albero di Natale in piazza Diaz a Nocera Inferiore. Al comune presentato questa mattina il cartellone davvero ricco di eventi natalizi che coinvolgeranno la città di Nocera Inferiore. Una perfetta sintesi di iniziative messe in campo dall'amministrazione Torquato e dalla volontà anche di associazioni e privati cittadini. C'è un buon clima di collaborazione soprattutto da qualche anno, soprattutto da quando i nocerini hanno la consapevolezza che le amministrazioni non possono sprecare danaro pubblico, che le risorse oramai sono di gran lunga inferiore rispetto a quelle che c'erano tanti anni fa, ma questo per tutte le amministrazioni comunali un po' ovunque in tutta Italia e per la nostra un po' più in particolare, per note ovvie ragioni. Aggiungo che questo ha sensibilizzato molto tutte le iniziative della società civile, si tratti di associazioni, di comitati di quartiere, di attività commerciali, di imprenditori che hanno fatto sponsorizzazioni, di gruppi di commercianti che hanno promosso iniziative importanti, delle scuole, delle parrocchie. Questo clima diffuso è la cosa migliore attraverso il quale festeggiare il Natale, che non è solo l'evento dello spettacolo, che pure ci vuole e ci saranno in abbondanza, ma è anche la partecipazione a tante cose che si fanno nel mese di Natale in una città, in una comunità come quella di Nocera. Ci sono tante belle iniziative importanti, apriremo con Piazza del Cioccolato, c'è stato questo bel evento che ha il consigliere Zarrella fortemente sponsorizzato e voluto e che aprirà le festività del Natale in piazza. Già è partita l'iniziativa dell'associazione TEA ed alcune attività commerciali di ristorazione e ricezione che ci sono a Piazza del Corso, col villaggio del Natale, la pista di pattinaggio. Ovviamente noi abbiamo provveduto agli addobbi natalizi, così come i commercianti del Corso hanno fatto le luci del Natale, ovviamente illuminazione pubblica a spese dell'ente comune ovviamente, e poi ci sono l'addobbo della piazza del municipio.